Basterà un libro? O il cellulare? A far fronte alla squadriglia di anziani che tutti i giorni, in tutte le sale d'aspetto del mondo, ci aspettano per sfracassar... per farci delle domande? Basterà un libro? Forse è proprio per questo che si chiama sala d'aspetto, perché è il luogo dove in genere persone molto, molto grandi, o magari molto annoiate, con tanto tempo libero, semplicemente più prolisse di padre Livio, di Radio Maria, ci rompono i coglioni per passare il tempo. Basterà far finta di mandare messaggi importantissimi? Basterà tirar fuori dalla borsetta una pila di dodici romanzi per costruire una roccaforte, una fortificazione accanto alla propria sedia che ci salvi da questi attacchi senili, dei domandatori di faccende inutili o private? Basterà la roccaforte o dovremmo passare all'olio bollente? Ma perché quella stronza della segretaria non esce dalle segrete dove si è rifugiata in quanto segretaria e non viene a salvarci? Perché? Perché non viene qui a fare il suo lavoro, nella sala d'aspetto, che è quello di cercare di arginare questa bolgia di ottantenni che ci domanda se siamo sposati e qualora non lo fossimo ci domanda perché non siamo sposati. Che ansia. Vogliono sapere tutto loro. Quando ci vedono entrare posano subito il giornale e ci guardano. Anche con le cataratte riescono a guardarci. Vogliono sapere dove viviamo, come mai siamo qui, che lavoro facciamo, a chi siamo figli, se ci piacciono le caramelle all'anice. Ma soprattutto e sopra ogni cosa vogliono sapere se è tanto che stiamo aspettando. Perché nessuno autorevole apre quella cazzo di porta e si mette a gridare cose tipo che ne so, basta con questo interrogatorio che non siamo al commissariato. E nel caso ci trovassimo in una sala d'attesa al commissariato, perché nessuno autorevole apre quella cazzo di porta e non si mette a gridare cose tipo, insomma basta, finiamola con questo interrogatorio in italiano corretto, che qui c'è gente che lavora. Perché nessuno ci salva mentre gli anziani ci divorano e si impossessano del nostro sacro tempo d'attesa negli uffici pubblici dove possiamo un attimo sederci e starcene in pace a pensare ai nostri bene amatica. Noi vorremmo solo ascoltare la nostra amata musica in coffia. Ma loro, gli anziani, ma che Dio li benedica e li protegga, non concepiscono l'esistenza delle cuffiette auricolari e soprattutto del fatto che questi attrezzi possono diffondere un suono che non ci consente di ascoltare anche la loro domanda. Inutile. Qualcuno arrivi immediatamente in sala d'attesa a distogliere l'attenzione degli anziani dalla nostra vita. O volete che altri giovani se ne vadano? Lo si faccia con qualsiasi mezzo. Un tentativo di rapina? Un bambino in culla? Che no, l'anziano, subito. Un cantiere. Ma certo, un cantiere davanti ad ogni sala d'attesa che distolga i vecchi ingordi di parole di tutte le sale d'aspetto del mondo. E li ipnotizzi magari, no? Come fece il pifferaio magico coi topi. Qualcuno gli attiri fuori davanti alle reti di metallo dei cantieri. Ci dispiace per gli operai. Vuoi mettere il martello pneumatico con le cuffiette auricolari? No, non è tanto che aspetto, signora. Mi lasci in pace, ha capito? Mi lasci in pace, ho problemi a casa.